Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla direttore Stefanotini, ancora influenzato con pochissima voce vicino al microfono. Allora Start Top 10 di lunedì 30 gennaio 2017, sono quasi le 9 al nostro Time Watch. Andiamo con la trasmissione Start Top 10, prendiamo in considerazione gli ascolti fatti nelle trasmissioni andate in onda nella settimana che partono nel D16 a domenica 22 gennaio. Nel D16 7 programmi speciale calcio di Pietro Cesaro, 137 contatti, la nostra Lazio del Duo Cagnetti Casentini, 251 contatti, questa è la Lazio di Nordetto Nicolai, parte 1, 391 contatti, parte 2, 316. Post Napoli-Pescara, del Duo Nicolai Marro, 528 contatti, post Inter-Chievo, Nicolai De Vincenzi, 496 contatti, il Ballo in Radio, Tonio Antineo, 122 contatti. Totale giornaliero 2.241, martedì 17, un solo programma, le tante analisi di Emiliano Ginestrini, 67 contatti. Mercoledì 18, 5 trasmissioni, la nostra Lazio, Cagnetti Casentini, 106, Genius Eloci, Simone Colaiacomo, 112, il mondo in parole a regola d'arte, Massimiliano Affenita, Roberto Di Pietro, 146 contatti. Staff Arte, Alessio Mattei, 526 contatti. Staff Poesia di Annalisa Peruzzi, 518 contatti. Totale giornaliero 1.408. Giovedì 19, due programmi tra calcio a realtà 1 e 2 di Norberto Nicolai, rispettivamente 338 e 281 contatti. Totale giornaliero 619. Venerdì 20, 3 contatti. La nostra Lazio, Rodolfo Casentini, Carlo Cagnetti, 89 contatti. 10 tuggioli e l'epidolo del Mago di Timisgro, 77 contatti. Una fiabba per te, Annalisa Peruzzi, 492 contatti. Totale giornaliero 6.58. Sabato 24, sabato 21, nessun programma. Domenica 22, 6 trasmissioni. minuto 91, Ante, Genoa, Crotone, Antonio Milano, 81. Minuto 91, Poste, Juventus, Lazio, parte 1, 2 e 3 di Norberto Nicolai, rispettivamente 134, 167, 152 contatti. Let's start at full blast. Musica straniera, anni 70-80, Foxy DJ, 69 contatti. Minuto 91, Poste, Genoa, Crotone, Antonio Milano, 99 contatti. Totale giornaliero 702. Quindi 24 programmi, 5695 contatti. La media 238 contatti a programmi. Lunedì prossimo prenderemo in considerazione i programmi fatti nella settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 gennaio. Ed andiamo alla speciale classifica Start Top 10. Le 10 trasmissioni per ascoltare. Partiamo dalla decima posizione. La nostra Lazio di Carlo Cagnetti e Rodolfo Casentini, lunedì 16, 251 contatti. In nona posizione, giovedì 19, fra calcio e realtà, parte 2, 281 contatti. Ottava posizione, 316 contatti. Questa è la Lazio, parte 2, Norberto Nicolai, lunedì 16. In settima posizione, fra calcio e realtà, parte 1, Norberto Nicolai, 338 contatti. In sesta posizione, questa è la Lazio, parte 1, lunedì 16, Norberto Nicolai, 391 contatti. In quinta posizione, una fiappa per te, venerdì 20, Annalisa Peruzzi, 492 contatti. Quarta posizione, in post interchievo, Nicolai De Vincenzi, 496 contatti. Di lunedì 16. Andiamo al podio. Staff Poesia, Annalisa Peruzzi, mercoledì 18, 518 contatti. Seconda posizione, Staff Arte, Alessio Maffei, sempre di mercoledì 18, 526 contatti. E per due soli contatti, prima posizione, minuto 91, post Napoli-Pescara, di lunedì 16, del duo Norberto Nicolai e Dottor Marro, 528 contatti. Allora, non ripetiamo neanche il podio, perché la voce scarseggia sempre di più. E tutto per quanto riguarda questa puntata di Staff of Ten, l'appuntamento è al prossimo, un abbraccio a tutti, dal direttore Stefano.